doping in india mi avete chiesto di approfondire la vicenda e quindi eccoci qua oggi a parlarne quindi guardate bene questa foto questo a quanto pare è un frame di un video che sta girando in internet e pare che sia lo spogliatoio i bagni dello spogliatoio nella precisione del campionato statale di Delhi in India che si è svolto il 26 di settembre a questo campionato statale è arrivato un controllo antidoping a sorpresa e a quel punto sono tutti scappati non proprio tutti si parla di circa la metà degli atleti addirittura però dei sette finalisti dei 100 metri soltanto uno si è presentato alla partenza il campione che è rimasto che non aveva paura del controllo antidoping è la meet kumar che è un classe 2003 che sperava di gareggiare contro i più forti del suo stato ma purtroppo ha gareggiato letteralmente da solo e tornando agli spogliatoi quelle che vedete sono tutte siringhe di cui la maggior parte contiene epo cioè una sostanza dopante generalmente utilizzata per quanto riguarda i mezzofondisti quelli di lunga distanza però a volte anche i velocisti lo utilizzano tra l'altro in questi campionati c'erano anche diversi under 20 addirittura si parla di una sepista under 20 che alla fine della gara non si è fermata ma è andata avanti a correre scappando letteralmente da un controllore antidoping che la stava rincorrendo comunque a parte i sensazionalismi vari l'India non è nuova di queste situazioni sono anni che si parla di situazione doping in India che continua ad avere problemi relativi al doping ci sono un sacco di casi veramente trovati positivi in questa nazione e non solo nell'atletica pensate che quest'anno è stata sospesa per antidoping una 14enne che praticava nuoto e questo fa capire quanto si è radicato il doping all'interno di questa nazione perché se arriva a doparsi persino una 14enne vuol dire che abbastanza sdoganato il doping però incredibilmente l'India non è la categoria A dei maggiori controlli antidoping cioè quelli inseriti nella VADA cioè l'agenzia mondiale antidoping in cui nella categoria A finiscono quelli maggiori a rischio quelli in cui bisogna controllarli un po' di più perché è facile che si dopino per esempio in questa lista ce ne sono attualmente sei il Bahrain la Nigeria il Marocco l'Etiopia il Kenya e l'Ucraina la Russia non è dentro questa lista perché lei fa parte di una lista tutta sua in cui si è letteralmente eliminate dalle competizioni internazionali perché c'è il doping di stato e questo caos mediatico che si è generato dopo questi campionati statali probabilmente porterà qualcosa o almeno si spera che porti a qualcosa sicuramente partirà un'indagine interna all'interno della federazione per capire cosa effettivamente sia successo perché il presidente della federazione indiana di atletica era impegnato ai giochi asiatici e appena è tornato ha detto raga facciamo un'inchiesta facciamo un facciamo qualcosa perché comunque non è normale una situazione del genere e quindi almeno un controllo interno ci sarà e poi immagino e spero che anche da parte della World Athletics si facciano due domande perché dopo essere andati così tanto sotto i riflettori visto che i video anche proprio degli spogliatoi pieni di sostanze dopanti sono girati molto in internet si spera che facciano qualcosa perlomeno inserire l'India nella categoria A cioè nei paesi più controllati e poi magari discutere anche su un eventuale ban della nazione stessa alle competizioni internazionali visto che una situazione del genere è veramente fuori di testa questo però vedremo cosa accadrà prossimamente chiudo con una piccola curiosità per quanto riguarda i set che non si sono presentati nei 100 metri ovviamente non è che erano lì e sono scappati direttamente hanno finto tutti di avere infortuni di avere i crampi guarda caso improvvisi salta fuori il controllo tutti ah no crampo ah no mi fa male il retro dell'orecchio e quindi sono andati via non hanno gareggiato proprio perché avevano dei presunti infortuni ecco il problema è che non esiste un regolamento che vada a punirli perché se uno non si presenta alla gara perché è infortunato almeno a quanto pare infortunato e non ci sono regolamenti che gli facciano fare un test antidoping lo stesso poi nel caso fossero tra i più forti al mondo sono comunque inseriti all'interno di un database tale per cui possono farti un controllo a casa e quindi in ogni caso uno verrebbe comunque beccato però non si tratta di questi atleti questi set atleti non sono gente da sub 10 nei 100 ma neanche da 10 10 e quindi non verranno mai controllati a casa quindi per loro basta non presentarsi in gara e non verranno mai scoperti fatemi sapere nei commenti quanto vi ha scioccato questa notizia a me tanto perché è una notizia che non vorrei mai dire però mi avete chiesto di parlarne di approfondirla e l'ho fatto anche volentieri mi raccomando seguite pillole di atletica per non perdervi nessun contenuto che pubblico grazie mille se mi state già seguendo grazie se lo farete da questo esatto momento bye bye